Ok, il GBT4All è una versione che di default scarica normalmente una versione un pochino più piccola quindi 2 GB in meno, però può fare ugualmente delle cose interessanti quindi cercate GBT4All, non è GBT4 ma è 4.4 andate su GitHub e su GitHub scaricate praticamente come vi suggerisce anche lui in sostanza una versione che volete per Windows, per Ubuntu o per Mac e a quel punto avete a disposizione praticamente l'interfaccia di GBT4All e il GBT4All ve lo faccio vedere perché potrebbe non essere facile quindi avete questa interfaccia in cui vi fa vedere il nome del modello, GBT4All questo qui, Giazzi, e avete la possibilità di fare l'aggiornamento premendo qua oppure potete fare le specifiche, diciamo, della temperatura quello che io ho spiegato in un mio post quindi 1 è praticamente molto creativo, 0 è niente creativo quindi se gli dico una temperatura 0, poco creativo e poi questo, ho visto che da me si vede poco però qui se faccio controllare, ecco, mettete il prompt a posto del prompt template qui normalmente c'è il restore template, c'è questo prompt io di solito ottengo quello di default e qui dice di considerare il prompt e di rispondere a quel prompt oppure semplicemente gli scrivo %1 %1 è praticamente proprio scritto %1 e a quel punto lì posso fargli la domanda ad esempio tell me what you know about vikings e quindi gli do un comando e come vedete lui entra in esecuzione in questo modo e in tempo spero reale perché a volte comunque tutti questi programmi di intelligenza artificiale possono entrare in tilt però in tempo normalmente reale dovrebbe rispondere adesso ecco vikings e quindi direi che non siamo proprio cioè questo è più o meno il pregiudizio che ah ok c'è un popular tv show vikings vikings ecco poi come sempre anche nelle altre cose se volete la traduzione in italiano già potete anche chiedere solo per la traduzione in italiano quindi tu gli si traduci in italiano e un po' se lo capisce perché tante volte bisogna ripeterci tutti niente, non l'ha capito quindi dovete andare con altri strumenti di traduzione bisognerebbe probabilmente riproporre praticamente questo testo poi si cancella tutto poi gli si dà il nuovo comando tra luce in italiano in seguente testo due punti però mi sembra che lui non quando si dice di fare una cosa di questo tipo se non vado errato cerca più che altro di tradurre in spagnolo perché non è non è un modello molto molto diciamo molto grosso quindi fa quello che può ok direi che non ha capito molto bene quindi per la traduzione non è il massimo questo signore e quindi basta così ricordatevi che potete tra l'altro anche prendere e fare un copia questo qui permette di fare il copia questo qui mi ha visto permette di fare i settings che sono sostanzialmente la temperatura per quello che ci riguarda e il template del prompt va bene allora è tutto non c'è grazie a tutti grazie a tutti